Ancora guai per l'ex dirigente della Regione Abruzzo Antonio Sorgi, indagato insieme ad altre tre persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Commissione del Delitto di Turbata Libertà degli Incanti. Per fatti commessi tra il 2009 e il 2013, la squadra mobile di Pescara, su delega della Procura della Repubblica di L'Aquila, ha notificato quattro avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di Sorgi. Rocco Micucci, ex presidente del CDA della Fira, Iris Flacco, dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive nell'ambito del Dipartimento Opere Pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali della Regione Abruzzo, Ercole Cauti, già amministratore della società Metron SRL con sede operativa Mosciano Sant'Angelo. Le indagini hanno preso il via nel settembre del 2014, dopo l'arresto di Sorgi, nell'ambito dell'operazione Resole, condotta sempre dalla Procura Aquilana, relativa al bando di gara per l'ampliamento del cimitero di Francavilla al Mare. Successivamente, sulla base dell'analisi di una cospicua moli di documenti acquisiti nel corso delle indagini, valutati e contestualizzati rispetto a numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, è stato sviluppato un nuovo finale investigativo sul presunto illecito l'affidamento di servizi e forniture per la gestione e l'assistenza tecnica di progetti finanziati con fondi europei gestiti dalla Regione Abruzzo. Secondo l'accusa, Sorgi, in concorso con Flacco, avrebbe abilmente sfruttato il suo ruolo apicale all'interno della struttura regionale per favorire il suo amico imprenditore Cauti, titolare della Metron, società specializzata nella gestione procedurale e finanziaria di programmi europei, il quale si è aggiudicato 5 commesse pubbliche per centinaia di migliaia di euro relative alla redazione e alla gestione di progetti europei in materia di sfruttamento di risorse energetiche e protezione dell'ambiente, all'esito, sempre secondo l'accusa, di procedure di gare turbate in suo favore. In due casi la società che si è formalmente aggiudicata la gara è stata la fira, ma le attività, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state in concreto gestite sempre dalla Metron sulla base di pregressi e accordi occulti con Micucci.